Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Eros Ramazzotti non si nasconde più e dice la verità. Il dolcissimo messaggio con foto per lei lascia i fan inteneriti, amo lei . Confessione Eros.Dopo la separazione di Michelle Lunsichere e Tommaso Trussardi tutti hanno sperato in un ritorno di fiamma tra la donna e il suo storico e grande amore Eros I due hanno persino dato una falsa speranza a tutti i fan scambiandosi un dolce bacio sul palco di Michelle Impossible Infatti, i due ex coniugi sono saliti di nuovo insieme sullo stesso palco dopo tanti anni e tutto sembrava essere tornato esattamente come prima, persino i fan potevano percepire l'emozione che c'era tra Michelle ed il cantante . Sfortunatamente però, nonostante ci sia stato un bacio, le cose non sono cambiate fra i due, che proseguono ormai da tempo per le loro strade, nonostante la figlia in comune che hanno cresciuto l'uno al fianco dell'altro Eros Ramazzotti innamorato pazzo di lei.Anche il cantante stesso ha cambiato vita ed ha iniziato nuove frequentazioni dopo la fine della relazione con Michelle, storia terminata anche per via della setta a cui la donna ha aderito e dalla quale è stata soggiogata Eros infatti ha avuto una storia molto discussa con la modella Marica Pellegrinelli Lui è stato giudicato a lungo. La modella infatti aveva solo 21 anni quando hanno iniziato a frequentarsi, mentre lui aveva 46 anni, 25 e più della sua compagna Da lei ha avuto poi due figli, nel 2011 hanno avuto Raffaella Maria mentre nel 2015 hanno messo al mondo Gabriel Tullio Hanno vissuto una fantastica storia d'amore, nonostante tantissime persone non approvassero la grande differenza d'età Alla fine, nel 2019, dopo 10 anni insieme, i due si sono separati. . Eros.Dopo di lei, non abbiamo più avuto certezze sulle frequentazioni dell'ex marito della Hunziker L'uomo è sempre stato molto riservato e non ama condividere sui social media o con il mondo notizie sulla sua sfera personale Recentemente però, Eros ha condiviso un'immagine con la sua dolce metà, l'unica donna che ama e che amerà sempre nella sua vita, dedicandole anche un dolcissimo pensiero Sfortunatamente non si tratta di Michelle, ma di qualcuna che le assomiglia parecchio Stiamo parlando infatti della figlia di Michelle ed Eros, Aurora Ramazzotti, classe 1996 I due sono davvero molto legati, padre e figlia hanno un rapporto unico e questo è emerso anche dalla foto che l'uomo 58enne ha condiviso con l'Italia intera Ha infatti postato un'immagine assieme alla figlia, una foto molto dolce e altrettanto simpatica con la tenera dicitura, amo questa donna . Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video